Il Campidoglio sembra intenzionato a ignorare la recente sentenza del Tar, che riconosce la validità del referendum sulla privatizzazione di Atac indetto dai radicali italiani. La consultazione, che si è tenuta nel novembre del 2018, si era conclusa con la vittoria del Sì, ma per via del mancato raggiungimento del quorum il Comune aveva deciso di non avallare il risultato. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, ora è stata firmata l'ordinanza sindacale con la quale si proclama l'esito della votazione, ma il vice sindaco con delega ai trasporti Pietro Calabrese ha già manifestato apertamente le intenzioni dell'amministrazione. La nostra volontà politica ha dichiarato è mantenere Atac pubblica per garantire un servizio di trasporto uguale per tutti i romani e tutelare i 12.000 lavoratori. Per questo abbiamo intrapreso un percorso di rilancio attraverso lo strumento del concordato preventivo. Non ci fermeranno le polemiche di chi vuole svendere la principale azienda di trasporto pubblico d'Europa, ha concluso Calabrese. Ma la realtà resta quella di una società perennemente sull'orlo del fallimento, che peraltro non sta rispondendo bene al ritorno della didattica in presenza nelle scuole superiori. Gli studenti in classe la scorsa settimana erano solo il 30%, spiega il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio, Mario Rusconi. Ma si è notata non poco il passaggio di metro, autobus e tram affollati, senza l'annunciato controllo dell'accesso massimo previsto al 50%. Le cronache quotidiane della Roma Lido, poi, stanno a testimoniare una situazione sempre più critica, che ovviamente va a discapito proprio di quei cittadini romani e di quei lavoratori chiamati in causa dal vice sindaco.